Bologna resta un tabù. La VL cade nella tana della Virtus 88-76 al termine di una partita giocata ad intermittezza dagli uomini di Repegia che approcciano il match in maniera arrembante andando sul 10-19 dopo 6 minuti. Dopodiché Pesaro resta incollata alla reazione di forza d'urto delle V nere con il primo tempo chiusosi in svantaggio ma ad un solo possesso di distanza dal più tre bolognese. Davanti a un folto pubblico pesarese la seconda gara di Dey non dà i frutti sperati a differenza del rientro di Charalampopoulos, migliore dei pesaresi, spalleggiato da una bella gara di Totè. Dall'altra parte però Lumberg e Wims fanno la differenza oltre all'ex Daniel Hackett che armonizza costantemente la manovra di squadra. È una sconfitta che manda la VL al settimo posto in classifica. Nel prossimo turno ci saranno in paglio due punti pesantissimi nello scontro diretto alla Vitrifrigorena contro Trento, attuale ottava forza del torneo. Dal basket al calcio a 5 a Napoli finisce con un secondo posto a testa altissima l'avventura dell'Ital Service Pesaro alle Final Four di Coppa Italia. Pesaro abdica dal trono della Coppa conquistata in due edizioni perdendo in finale 3-1 contro il Real San Giuseppe che si prende la coccarda tricolore. Epilogo di un weekend a emozioni forti con l'Ital Service che al sabato aveva fatto saltare il banco dei pronostici eliminando Napoli, padrona di casa, capo classifica della Serie A e favorita della rassegna. Una semifinale vinta ai rigori dove si è esaltato il portiere pesarese Putano al termine di un 3-3 dopo i tempi supplementari. In finale invece l'Ital Service paga alcuni episodi poco fortunati, va sotto nel punteggio pareggia con Fortini ma un pari che dura solo tre minuti. Il tempo di rivedere i campani avanti prima di gonfiare il punteggio fino al 3-1 definitivo. Ora l'Ital Service deve rituffarsi anima e corpo nella rasse finale della lotta salvezza in campionato. Salvezza che è sempre più complicata per la Vis Pesaro che nel campionato di calcio di Serie C perde 0-2 in casa con Lentel la seconda forza del torneo. I Liguri vanno subito in vantaggio dopo tre minuti con Corbari ma la Vis non sfigura e resta incollata al match con una prova compatta che sembra miccare al pari prima del gol di Tascone che al 76esimo mette fine alle illusioni. La Vis resta quintultima in classifica a meno 2 da una salvezza diretta che andrà rincorsa negli ultimi quattro capitoli della regular season. Nel campionato di Serie A di Regui cade in maniera netta la Fiorini Pesaro che in Toscana perde 45-3 contro i Cavalieri Union Prato Sesto. Continuano invece a vincere i ranocchi Angels Pesaro che al secondo match del campionato di football americano sorridono ancora sul campo amico di Via Respighi avendola meglio su un altro avversario bolognese. Dopo i di Zito, Maltoni e Pier Maria che hanno costretto a reinventare la squadra. Nella pallavolo la Megabox vince a Perugia il tiebreak dopo una partita che le Umbre ancora in lotta per salvarsi allungano all'infinito e che le Tigri portano a casa avendo ragione del quinto e decisivo set. Dulcis in fundo continua a vincere l'asso pesarese della kickboxing Jordan Valdinoci laureatosi campione del mondo Isca. Sulle rive del lago di Lugano a campione d'Italia durante l'evento di arena Jordan ha conquistato la cintura battendo il francese Jamal Wahib.